eccomi puntuale no non sono puntuale oggi sono qualche minuto in ritardo vorrà dire che tengo la diretta più breve buongiorno buongiorno e benvenuti anche oggi ho il telefono messo un po così di corsa bellissima giornata martedì 18 febbraio una giornata che sembra veramente primaverile sono uscita a fare un giretto col mio cane la mia mezz'ora d'aria ogni giorno e avevo veramente caldo bello vedere le vigne la gente che ci sta lavorando la primavera che si sta risvegliando ho trovato anche tre coccinelle bellissime ho raccolto tre coccinelle e le ho appoggiate sulle viti perché sono degli insettini che tutti amano cioè rispetto alle mosche le zanzare le api tutte che ci danno fastidio le coccinelle chissà perché è gli è stato attribuito questo questo non so sono dei porta fortuna no quindi uccidere le coccinelle non si può a parte che non fanno niente non bisognerebbe uccidere nessun insetto però le coccinelle sono utili perché mangiano gli afidi mangiano alcuni parassiti che colpiscono le piante i fiori quindi manteniamo le coccinelle e speriamo che ci porti una fortuna oggi ne ho trovate tre quindi devo essere deve essere per me una giornata super fortunata speriamo perché oggi pomeriggio ho appuntamento dal dentista e quindi mi auguro di che sia fortunata per non sentire dolore ecco questo questo è quanto allora oggi ti voglio parlare di un evento particolare che si svolge in aprica mi piace parlare di quegli eventi tradizionali che si svolgono ogni anno da anni e anni e questo in particolare aprica che è la festa parisciori allora i sciori sono praticamente era il nome attribuito ai turisti di una volta no quindi la gente che andava in vacanza in aprica erano i sciori e quindi queste persone nel momento in cui finisce la stagione la stagione turistica in questo caso in quella quella invernale o gli organizzano una festa insomma per per salutarli e questa cosa molto bella dura ben tre giorni quest'anno il 27 il 28 il 29 febbraio quindi in aprica poi quest'anno c'è anche un altro evento in concomitanza che su una da mars però di quello parlerò in altra occasione quindi il 27 si inizia nell'area dei campetti dell'aprica e dove c'è con il supporto dei maestri delle scuole di sci c'è il museo scarpuec quindi lo scarpone vecchio ideato dai leonegri il pica e con una serata dedicata alla storia di questo sport quindi lo sci lo sci in l'aprica è una delle mete turistiche e per gli amanti dello sci per noi a chilometro zero perché è da sondrio in mezz'ora ci si arriva veramente le piste sono belle sono molto soleggiate e quest'anno quest'anno festeggiano appunto questa questa chiusura se vogliamo della della stagione sistica degli impianti salutando con la festa gli sciori cosa succede durante questa festa allora nella contrada san pietro vengono aperte vengono aperte le cantine vengono aperte le case per ospitare la gente ci sono una serie di degustazioni vengono mostrati vecchi mestieri di una volta degustazioni di vini formaggi c'è anche un forno un antico forno con annessa cantina per la stagionatura la ghiacciaia dove si assaggia un particolare violino di capra per chi non sa cos'è il violino di capra è un prosciutto speciale fatto proprio con la capra lo chiamiamo prosciutto si è un salume insomma un insaccato molto particolare si chiama violino perché lo appoggiano sulle spalle e lo devono tagliare col coltello proprio come come se fosse suonare un violino quindi se vuoi partecipare a una festa un po' particolare della tradizione valtellinese vai in aprica il 27 il 28 il 29 febbraio dove potrai assistere a questa questa bellissima manifestazione io uno di uno di quelle a cui non ho mai partecipato chissà mai che riesca qualche giorno ad intrufolarmi e quindi a raccontare anche di questa di questa esperienza perché è quello che mi piace fare insomma raccontare stanno già suonando le campane di santana quindi oggi devo stare deve essere veramente veramente breve e volevo dirti un'altra cosa l'altro giorno ho postato un articolo che riguardava le biciclette le salite salite da fare montagna in bici bici da strada allora tutti vanno con con le mountain bike con le bike insomma quelle con i rotoni grossi invece c'è gente che appassionata anche di ciclismo quindi ciclismo quello da strada quindi quello del giro d'italia abbiamo delle salite fantastiche oltre allo stedio e passo del gavio e mortirolo insomma ci sono tante belle salite però c'è una persona che in particolare isa castellani che è titolare del del bnb la carossa a montagna che si è preso la briga di descrivere e mappare 60 salite da fare in bicicletta quindi se sei appassionato di bici e viene in valtellina te la vuoi girare vuoi fare fatica perché la salita si fa fatica ci sono queste ben 60 salite per vedere la valtellina da un punto di vista diverso quindi se vai sul calendario valtellinese sul blog trovi le 60 salite da fare in bicicletta per oggi è tutto mi raccomando se vuoi qualche informazione su carnevale sulle iniziative che ci sono in questi giorni sempre www calendario valtellinese.com e se ti vuoi iscrivere al nostro servizio whatsapp e telegram manda un messaggio con scritto eventi al numero 393 0806066 e per oggi è tutto ti saluto buona giornata ci vediamo domani ciao